uno solo faccio che lo alziamo adesso mettiamo in posta però non carichiamo i fucili non facciamo niente i fucili carichiamo solamente quando c'è in posta ok va bene andiamo attenzione che deve essere ferito giù per il bosco attenzione è grosso morto complimenti non 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 Allora qui è arrivato un cane ma non lo vedo perché metto il bosco sta ammorsicando i singhiali morti. Qui? Un, due, due, tre. Facciamoci, pronti? Vai! Tu sei contento oggi? No, quale è. No, è il suo bionco di una tiscia malunare perché prima che il Gart capita passa 50. Però mi dirà che la testa del giallo. Grazie per la visione!